Sì, 95 voti, una fiducia troppo risicata per proseguire il percorso e naturalmente sapete di chi stiamo parlando, del Premier Mario Draghi che ha rassegnato appunto le dimissioni questa mattina intorno alle 9 anche in camera e un voltafaccia da parte di alcuni partiti che fino all'ultimo si erano schierati appunto in aiuto, a supporto del governo o almeno così a parole ma forse a proposito di parole il discorso di ieri tenuto in Senato ha indispettito tre gruppi parlamentari di senatori scusate e quindi il patatrac la frittata è fatta. Noi parliamo con una rappresentanza di chi più ha sostenuto al governo Mario Draghi Italia Viva, con me c'è appunto Antonino Pipitone, un'indignazione ben chiara più volte rimarcata appunto da chi sappiamo, diteci la vostra qui nel territorio come appunto vedete questa situazione. Renzi l'abbiamo sentito. A voi la parola. Sì grazie, sicuramente una scelta irresponsabile, non solo le 5 stelle che abbiamo visto hanno avuto un atteggiamento assolutamente assurdo e come dire compatibile con la storia di questo movimento che presumo si avvi al totale declino ma a parte questo quello che ieri abbiamo assistito di cui parlavi era il volta faccia di due partiti che siano assunti la responsabilità di portare questo governo alle prossime elezioni con Draghi cioè la Lega e Forza Italia. Questa è una scelta assolutamente scandalosa e vergognosa e dannosa per il paese oltre a un danno enorme per l'immagine dell'Italia a livello internazionale. Non condivido il fatto che sia stato il discorso di Draghi che ha indispettito Lega. Quindi lei sostiene che fosse già un gioco di palazzo già architettato a priori quindi non sono state le parole, alcuni hanno visto insomma un po' troppa, passatemi questo termine, decisione, arroganza insomma da parte del Premier Draghi che si è tolto qualche sassolino. Draghi ha detto quello che ha detto all'inizio del suo mandato è stato supportato da un ampio arco costituzionale escluso Fratelli d'Italia per fare tre cose principali, la questione del Covid, la questione economica e la questione sociale. Sono tre grandi emergenze a cui poi si è giunta la guerra che ha peggiorato la cosa. Non è assolutamente credibile la storiella che ieri sulla base di quello che ha detto Draghi in maniera molto puntuale e lineare sia Forza Italia sia la Lega che rappresenta importanti pezzi di economia di questo paese e di questa regione soprattutto abbiano cambiato idea su Draghi. Fratelli d'Italia si aspettava insomma visto che non erano neanche a governo? C'era già un accordo chiaro tra Fratelli d'Italia, la Lega e Forza Italia, tant'è vero che da subito non hanno mai battuto le mani, non si sono mai come dire nemmeno impegnati visivamente a sostegno del governo. Peccato perché adesso questo è un problema assolutamente... Quali scenari ravvede? Beh gli scenari sono molto chiari, io spero a questo punto subito si vada alle elezioni, quindi entro i 70 giorni da quando si dimetterà Draghi, presumo da oggi perché sarà proprio in questi momenti, dovrebbe essere da Mattarella e quindi poi decideranno gli italiani e spero che gli italiani si ricordino di quello che sta succedendo in questi momenti, in queste ore per l'Italia. Io vorrei anche sottolineare Brunetta e Gelmini che lasciano il partito. Beh Brunetta e Gelmini lasciano da ministri innanzitutto, rimangono ministri, quindi già erano un po' in conflitto con Forza Italia, sono problemi di Forza Italia, certo che chi ha contribuito al governo di questo paese e ha vissuto sulla propria pelle le emergenze che noi abbiamo e le necessità, guardate bastavano solo quattro mesi, si arrivava a fine anno, si faceva la finanziaria, si davano quei contributi e quegli aiuti alle famiglie e alle imprese che dovevano dare in queste ore e poi si andava a elezioni normalmente fra sei e otto mesi. Dico non capisco questa precipitazione della crisi se non per un mero calcolo politico, ma appunto il calcolo di questi partiti non risponde a quello degli italiani. Pitone, Draghi sottolineava, appunto diceva, questa risposta parlando appunto della fiducia che ha richiesto in Senato inizialmente, dovete darla agli italiani, quindi il popolo italiano è stato deluso secondo lei e aggiungo anche la borsa è crollata completamente e davanti agli occhi del mondo, la stampa e non solo, la situazione è apparsa veramente grave. Guardate, noi abbiamo una persona che è Mario Draghi che è riconosciuto a livello internazionale come una delle migliori menti, una delle migliori risorse umane di grandissima qualità, autorevole, competente, si è messo a disposizione dell'Italia per un progetto su richiesta del Presidente della Repubblica, quei partiti che hanno promesso di sostenerlo per il bene dell'Italia, non per Draghi, si sono tirati indietro per un mero calcolo elettorale, la trovo una cosa assolutamente scandalosa e indecente. In caso appunto di votazioni, e sembrerebbe che appunto ci si avvicini a questa opzione, lei vede, spostiamoci un secondo che... Andiamo qui sotto, è il bello della diretta perché insomma siamo nella centralissima Padova e quindi ci sono anche i nostri mercanti che sono all'opera. Dicevo, in caso di voto, che scenario secondo lei potrebbe prospettarsi in Italia? C'è un centrodestra che risale la china? Soprattutto mi rivolgo a una Giorgia Meloni, quindi Fratelli d'Italia. Io penso che la Lega e Forza Italia hanno dimostrato di essere sostanzialmente succubi del gioco di Giorgia Meloni perché hanno fatto il gioco di Giorgia Meloni che è l'unica grande vincitrice di questa battaglia. La parte moderata, liberale della destra, la destra cosetta europea, sostanzialmente mi pare che non esista più, quelli che c'erano stanno uscendo fuori, Brunette e l'altro ministro Gelmini. Bisogna vedere adesso cosa facciamo noi da questa parte. Se l'area riformista è in grado di riorganizzarsi per dare una specie di aria, chiamiamola così, Draghi, allora noi ci saremo. Se il PD vorrà fare di nuovo un'alleanza con i 5 Stelle, penso ci saranno grandi e seri problemi, almeno per quanto riguarda l'Italia. Io ringrazio Antonino Pipitone di Italia Viva per il suo commento di questo scenario così particolare. Se non ci sono domande, a voi studio.